Presidente, la competitività delle nostre aziende passa per la digitalizzazione industriale. Da Telespazio stamattina un passo in avanti importante. Passa per la digitalizzazione e in genere per l'innovazione tecnologica. Non si affronta il mondo odierno senza costantemente aggiornarsi, innovare, costruire, creare novità e soprattutto realizzare eccellenze che facciano emergere i nostri prodotti in un mercato troppo ampio per poter competere nella logica dei numeri. Questa è la strada che abbiamo imboccato con Telespazio, con Leonardo, con Tales e con tutte le aziende del settore. Stiamo anche sviluppando un percorso che deve portare alla Costituzione, un vero e proprio distretto dell'aerospazio per sviluppare ulteriormente questa vocazione industriale della nostra regione. Oggi molto significativo il fatto che in questo hub, in questo centro per l'innovazione digitale che coinvolge Abruzzo e Molise, siano presenti tutti i principali attori del territorio, dai centri di ricerca e dalle università fino alle associazioni di categoria, confindustriali, insieme alle istituzioni pubbliche e alle aziende del settore. Fare squadra, fare sistema è la ricetta giusta per far crescere un territorio.